Capitolo 31, Lukmen Alif, Lam, Mim Questi sono i versetti del Libro Saggio Guida e misericordia per coloro che compiono il bene Che assolvono all'orazione e pagano la decima e fermamente credono nell'altra vita Che seguono la guida del loro Signore, questi sono coloro che prospereranno Tra gli uomini vi è chi compra storie ridicole per traviare gli uomini dal sentiero di Allah e burlarsi di esso, quelli avranno un castigo umiliante Quando gli si recitano i nostri versetti, volge le spalle superbo come se non li avesse sentiti, come se avesse un peso nelle orecchie Dagli annuncio di un doloroso castigo Coloro che credono e compiono il bene avranno i giardini della delizia Dove rimarranno in perpetuo, questa è in verità la promessa di Allah Egli è l'eccelso, il saggio Ha creato i cieli senza pilastri che possiate vedere, ha infisso le montagne sulla terra, che altrimenti si sarebbe mossa e voi con essa e la popolata di animali di tutte le specie Abbiamo fatto scendere un'acqua, dal cielo, e abbiamo fatto germogliare ogni tipo di magnifica specie, di piante Questa la creazione di Allah Mostratemi allora quello che hanno creato gli altri, che adorate, all'infuori di lui No, gli ingiusti sono in errore palese Certamente fummo noi a dare la saggezza a Lukmen, sii riconoscente ad Allah, chi è riconoscente lo è per se stesso Quanto a colui che è ingrato, in verità Allah è colui che basta a se stesso, il degno di lode E, ricorda quando Lukmen disse a suo figlio, figlio mio, non attribuire ad Allah associati Attribuirgli associati è un'enorme ingiustizia Abbiamo imposto all'uomo di trattare bene i suoi genitori, lo portò sua madre di travaglio in travaglio e lo svezzò dopo due anni, sii riconoscente a me e ai tuoi genitori Il destino ultimo è verso di me E se entrambi ti obbligassero ad associarmi ciò di cui non hai conoscenza alcuna, non obbedire loro, ma sii comunque cortese con loro in questa vita e segui la via di chi si rivolge a me Poi a me farete ritorno e vi informerò su quello che avrete fatto O figlio mio, anche se fosse come il peso di un granello di senape, nel profondo di una roccia o nei cieli o sulla terra, Allah lo porterà alla luce Allah è dolce e ben informato O figlio mio, assolvi all'orazione, raccomanda le buone consuetudini e proibisci il biasimevole e sopporta con pazienza quello che ti succede, questo il comportamento da tenere in ogni impresa Non voltare la tua guancia dagli uomini e non calpestare la terra con arroganza, in verità Allah non ama il superbo vanaglorioso Sii modesto nel camminare e abbassa la tua voce, in vero la più sgradevole delle voci è quella dell'asino Non vedete come Allah vi ha sottomesso quel che è nei cieli e sulla terra e ha diffuso su di voi i suoi favori, palesi e nascosti? Ciononostante vi è qualcuno tra gli uomini che polemizza a proposito di Allah senza avere né scienza, né guida, né un libro luminoso E quando si dice loro, seguite quello che Allah ha rivelato, rispondono, seguiremo invece quello che abbiamo trovato presso i nostri avi Insisterebbero così, anche se Satana li chiamasse al castigo della fiamma? Chi sottomette il suo volto ad Allah e compie il bene, si afferra all'ansa più salda In Allah è l'esito di tutte le cose Quanto a chi è miscredente, non ti affligga la sua miscredenza, a noi faranno ritorno e li informeremo di quel che avranno fatto Allah conosce perfettamente cosa c'è nei cuori Diamo loro godimento effimero per un po' di tempo e poi li spingeremo con forza nel castigo terribile Se domandi loro, chi ha creato i cieli e la terra, certamente risponderanno, Allah Di, lode ad Allah Ma la maggior parte di loro non sanno Appartiene, ad Allah tutto quello che è nei cieli e sulla terra Allah basta a se stesso, è il degno di lode Anche se tutti gli alberi della terra diventassero calami, e il mare e altri sette mari ancora, fossero inchiostro, non potrebbero esaurire le parole di Allah In verità Allah è eccelso, saggio La vostra creazione e resurrezione, per Allah, è facile, come quella di una sola anima Allah è l'audiente, colui che tutto osserva Non hai visto come Allah ha fatto sì che la notte compenetri il giorno e il giorno compenetri la notte? E come, ha sottomesso il sole e la luna, ciascuno dei quali procede, nel suo corso, fino a un termine stabilito Ciò in quanto Allah è la verità, mentre quel che invocano all'infuori di lui è falsità Allah è l'altissimo, il grande Non hai visto che è per grazia di Allah che la nave solca il mare, affinché vi mostri qualcuno dei suoi segni? In verità in ciò vi sono segni per ogni uomo di perseveranza, di riconoscenza Quando li copre un'onda come fosse tenebra, invocano Allah e gli rendono un culto puro Quando poi, Allah, li mette al sicuro sulla terra ferma, alcuni di loro seguono una via intermedia Solo il peggior traditore, il peggior ingrato rinnegherà i nostri segni Uomini, temete il vostro Signore e paventate il giorno in cui il padre non potrà soddisfare il figlio Ne il figlio potrà soddisfare il padre in alcunché La promessa di Allah è verità Badate che non vi inganni la vita terrena e non vi inganni Su Allah, l'ingannatore In verità la scienza dell'ora è presso Allah, colui che fa scendere la pioggia e conosce quello che c'è negli uteri Nessuno conosce ciò che guadagnerà l'indomani e nessuno conosce la terra in cui morrà In verità Allah è il sapiente, il ben informato Grazie a tutti